Buongiorno, sono Tiziana Guerra, Presidente della Commissione Sociale del Comune di Carrara. Il mercoledì scorso si è riunita presso il Comune per portare in discussione aspetti di gestione della pagina per le associazioni di volontariato che noi andremo ad inserire nel portale del Comune di Carrara. Abbiamo in maniera specifica portato in discussione una bozza del regolamento della pagina stessa, dopo che abbiamo approfondito alcuni aspetti parlando con il dirigente del settore sociale ed anche con l'ufficio CED del Comune di Carrara. Abbiamo portato in commissione anche una valutazione dell'adesione alla bandiera Lilla, che è un riconoscimento che viene dato ai comuni che gestiscono in maniera virtuosa l'accoglienza delle persone disabili. La richiesta di adesione ci è pervenuta dall'esterno, quindi dall'associazione che gestisce questo riconoscimento e con l'opposizione si è ritenuto di dover portare in discussione la prossima volta una valutazione più consapevole, cercando di raccogliere più informazioni possibili su costi e fattibilità. Allo stesso tempo, mercoledì prossimo porteremo in discussione di nuovo il regolamento per dar modo all'opposizione di approfondirne la conoscenza e portare eventuali proprie opinioni. La prossima commissione si riunirà mercoledì prossimo sempre al Comune di Carrara in seduta pubblica.